ciao ragazze questo è l'album che ho preparato per la comunione di mio nipotino ha una chiusura con l'elastico e per farlo ho utilizzato la collezione mes petit chiseaux non so come si pronuncia una collezione francese la collezione remember poi la carta simbostoris effetto legno e qualche basil e ho preso tutto da obiland fantasia e creatività da semini questo è tutto l'allestimento che ho preparato per la comunione una pagina in vellum ecco Grazie. E' tutto, spero vi sia piaciuto. Ciao e alla prossima!